Siamo sempre in diretta qui con Is Good For You live dal Sunset Beach di Cervia numero 165 e numero 166 tanto per regolarvi, siamo nell'aperitivo della domenica, allora adesso noi facciamo vedere tantissime belle immagini ovviamente firmate Sunset Beach con la grandissima Julie e adesso con Is Good For You Grazie a tutti Grazie a tutti Is Good For You